A piede il vero, il dubbio. Questo è il tema dell'edizione 2016 di Dante 2021. Dal 14 al 18 settembre 2016 Ravenna ospiterà eventi, letture, spettacoli, premi dedicati al sommo poeta. Una manifestazione che oramai è sicuramente consolidata per la città di Ravenna. Quest'anno quali sono le tanto attese novità e sappiamo come ogni anno conferme molto gradite? Consolidata è parola grossa. In questi tempi di consolidato c'è ben poco e siamo tutti a rischio in ogni momento e quindi anche in questa occasione mettiamo molto impegno a fronte di una riduzione di contributi e di difficoltà che ci sono. Quest'anno abbiamo scelto un motto che ci è piaciuto molto e mi è piaciuto molto, un verso del paradiso, del quarto canto del paradiso, ai piedi del vero, il dubbio. Ecco, il dubbio è una condizione che ci salva la vita. In questi momenti difficili se ci affidiamo eccessivamente a una verità che sta ferma, che non si mette in crisi, che non si mette in discussione, forse non andiamo da nessuna parte. In Dante questo aveva un significato anche molto più profondo. Quindi il dubbio però ci guida, il dubbio cioè la discussione dei temi. Abbiamo cercato di organizzare varie iniziative su una quantità di argomenti, dalla scienza in Dante all'Europa in Dante e ne parleranno un grande giornalista come Stefano Folli insieme ad Antonio Patuelli, due posti che hanno due posti significativi, cioè uno da una parte dell'informazione e dall'altra dell'economia. Quindi ci possono dire quanto del mito d'Europa che Dante aveva prefigurato, lui certo nel suo linguaggio, l'impero e così via resiste oggi, sia una speranza delusa o sia una prospettiva. Però parleremo anche di molte altre cose, avremo diversi personaggi esteri perché Dante è una figura importante non solo in Italia ma anche fuori. E molti amano l'Italia attraverso Dante o comunque amano Dante attraverso l'Italia. È un percorso virtuoso che bisognerebbe aiutare perché la cultura traina. La cultura è un modo di entrare in un paese attraverso la lingua, attraverso le abitudini, forse più che non con tutto il rispetto per chi le fa e con tutta la tutela che devono avere, non con delle sedie o con dei tondini di ferro. La cultura può servire anche per aprire altri orizzonti, per conoscere persone. Verrà un ragazzo greco che ha vinto le Olimpiadi d'italiano, cioè ha scritto e ha capito meglio un testo di tutti gli altri, ovviamente solo fra quelli stranieri. Abbiamo un riconoscimento importante, quest'anno viene ad aprire il nostro festival, il sottosegretario ai beni culturali inviato in rappresentanza proprio del ministro Franceschini che si è interessato a questa nostra iniziativa. Poi abbiamo delle cose bellissime, abbiamo questo bellissimo segnalibro di un artista contemporaneo che gioca anche con Dante, i diavoli e l'inferno. Abbiamo un attore importante che è Enrico Bonavera, che è il nuovo Arlecchino, l'erede di Ferruccio Soleri nell'Arlecchino del Piccolo di Milano, che ha costruito appositamente per noi uno spettacolo in cui Alichino, uno dei diavoli che Dante incontra, diventa piano piano Arlecchino e poi si pone dei dubbi se quel mondo che lui ha conosciuto all'epoca di Dante, appunto quel peccato che allora allignava, esiste ancora, perché sembra che tutti siano buoni. Nel comunicato di Dante 2021 leggiamo Dante accanto noi e possiamo dire che questo è realtà per Ravenna, un Dante che continua ad essere una figura presente, importante per la città. Per fortuna, è vero, in effetti direi che l'interesse per Dante e Ravenna sta crescendo, ecco, per carità, nella storia di Ravenna ci sono sempre state delle attenzioni, delle celebrazioni dantesche di grande rilevello, di grande qualità, però effettivamente da alcuni anni, direi ormai da non pochi anni, l'interesse è cresciuto molto, insomma. Io sono un po' presuntuoso, penso che abbiamo dato un contributo anche come fondazione, prima col Dante 09 e poi col Dante 2021, perché abbiamo cercato di fare delle proposte che pur avendo una valenza culturale, un significato, diciamo così, intrinseco, avessero anche una capacità di attrazione verso un pubblico diverso, verso un pubblico che Dante lo può comprendere in un'ottica diversa rispetto ai filologi, rispetto alle persone di grande elevatura, di grande cultura. E però, insomma, ci sono state, ci sono molte iniziative che, diciamo così, riguardano la figura di Dante, promosse da vari soggetti, insomma, no? Quindi io penso che questo sia un valore della città, la città si appropria di una memoria e ne comprende anche il significato, diciamo così, verso il mondo, no? Ecco. In fondo Ravenna è la città che ospita le ossa di Dante, è la città dove Dante ha chiuso la sua grande divina commedia e questo comincia ad essere nella consapevolezza dei Ravennati. Questo mi sembra che sia un elemento molto importante. Poi vedo che anche, diciamo che ci sono state anche delle iniziative sempre sostenute dalla fondazione, come Dante in rete, insomma, che ha coinvolto le scuole, che ha interessato tanti giovani e che ha anche prodotto quello che attualmente si vede al Museo Dantesco, insomma. Quindi, effettivamente, diciamo che la città di Ravenna dedica a Dante un'attenzione che non c'era prima, questo sì, insomma. Poi il Ravenna Festival quest'anno ha iniziato gli spettacoli nei chiostri, insomma, effettivamente, secondo me, è molto importante. Siccome ci incamminiamo, quando decidemmo di fare il Dante 2021, sono già passati diversi anni, così il Patuale dice, ma andiamo verso il 2021, io lo guardai con un po' di perplessità, invece il 2021 sta arrivando, il tempo vola e il 2021 sta arrivando. E quindi ci auguriamo che in queste celebrazioni del 2021, questa maggiore sensibilità dei Ravennati di questa, una volontà, diciamo così, di riappropriarsi, anche dal punto di vista dell'immagine di Dante, io penso che servirà e gioverà a fare nel 2021 un momento di grande celebrazione, di grande valorizzazione, anche di ciò che rappresenta Ravenna per la cultura dantesca, insomma. Pluralismo convergente, questi termini che sono utili sia per quanto riguarda la cultura, sia per quanto riguarda l'economia, sia per quanto riguarda il nostro Paese. Ma oggi ci occupiamo di Dante, di un altro passo importante verso il settimo centenario che abbiamo stimolato con grande anticipo e che sta avendo un grande successo di attenzioni molto ampie, crescenti e di grandi mobilitazioni di segmenti non solo culturali e istituzionali della città dove Dante passò gli ultimi anni, cioè Ravenna, ma anche della città dove nacque e che lo esiliò Firenze. Io credo molto nel pluralismo convergente, perché il pluralismo è fondamentale, non si può pianificare, controllare, burocratizzare tutto, perché quella è la via solo per rallentare le crescite, quindi bisogna favorire il pluralismo e cercare le convergenze, le complementarietà, le positività. Ecco, anche il ricordo e l'esperienza lantesca dimostrano che il settarismo non produce, non costruisce e che bisogna essere molto attenti al linguaggio, per cui l'uso dell'invettiva deve essere fortemente motivato da ragioni effettive e sostanziali e che bisogna combattere il degrado del linguaggio, degrado che è nella qualità del linguaggio, degrado che è nella interlocuzione, degrado che è nel livello di rispetto degli interlocutori. Quindi un pluralismo convergente è un insegnamento in positivo che ci viene da un'esperienza di cui l'approfondimento dantesco è sempre molto utile.